Buon pomeriggio, grazie per questo invito, mi scuso di non poter essere presente con voi. Il tema che voi affrontate, il tema del vostro premio e anche del dibattito di oggi è un tema che mi sta molto a cuore e penso sia un tema fondamentale, se non il tema fondamentale del giornalismo di oggi. Quando dire giornalismo sociale tra memoria e racconto è spiegare esattamente il lavoro, il mestiere che andrebbe fatto ogni giorno. Io penso che il giornalismo, soprattutto il giornalismo italiano, per troppo tempo si è preoccupato di parlare di quadri generali, di dare numeri, cifre, ma dimenticandosi che dietro ogni storia, dietro ogni problema, che ci sono delle persone, ci sono degli uomini, delle donne, dei bambini, ci sono storie umane, ci sono storie reali. Ecco, io quello che penso è che quando noi oggi affrontiamo temi come la sanità, la scuola, l'integrazione, dobbiamo essere capaci di raccontarli tenendo presente il contesto generale, tenendo presente il quadro, ma riuscendo poi a spiegare come ciò che sta accadendo tocca la vita delle persone, come delle politiche, come delle decisioni governative, una legge, un decreto, un dibattito, una raccolta fondi possono cambiare la vita delle persone. Quando voi dite tra memoria e racconto, la memoria è un dato fondamentale, io ci ho lavorato molto, sia con il giornale, con la stampa, sia nel mio lavoro come scrittore, con un'idea che la memoria sia fondamentale perché non si riescono a capire i problemi, è impossibile raccontare quello che accade, è impossibile riuscire a far capire ai lettori, ai cittadini dove si può andare, perché si è arrivati a questo punto, in un qualunque problema sociale, se non si è a memoria, se non si è in grado di raccontare come si sono creati i problemi, che cosa si è fatto fino ad oggi. Per cui è fondamentale, prima di tutto, concentrarsi sul percorso, spiegare il contesto. Troppo spesso vengono raccontate le storie sociali senza tenere presente il contesto di riferimento. Vi faccio un esempio di questi giorni, in questo momento si parla molto dei fondi che non ci sono, che il governo dovrà stanziare per le non autosufficienze, però nei giornali si parla quasi solo ed esclusivamente dei malati di SLA. Ecco è importante raccontare tutta la storia, tutto il contesto, altrimenti ci si concentra soltanto su una parte e si rischia di perdere di vista invece qual è il reale problema. Il reale problema è che in questo momento in Italia non ci sono i fondi per le non autosufficienze, quindi per esempio non ci sono i fondi non solo per i malati di SLA, ma non ci sono i fondi per esempio per le persone che sono in coma, che sono persone che non hanno modo di discutere, di partecipare al dibattito politico. Allora io penso che i giornali devono raccontare le storie nella loro completezza, si devono far carico del contesto, perché soltanto se sono capaci di farsi carico del contesto, soltanto se sono capaci di dare il quadro tutto ai cittadini, allora hanno l'onestà intellettuale di far capire che cosa sta succedendo, hanno quel di più che secondo me è la chiave del giornalismo, che è quella di spiegare il perché delle cose, di spiegare perché si è arrivati fino a questo punto, di spiegare dove si può andare, non fermandosi semplicemente all'emozione, perché quando prima dicevo che è fondamentale mettere al centro il racconto, mettere la persona umana, però il racconto e la persona umana non possono essere un racconto in cui l'emozione copre tutto prevale e impedisce di avere il ragionamento, bisogna avere il coraggio della complessità, bisogna avere il coraggio di mettere la persona, il racconto delle storie, dei casi singoli all'interno del quadro più grande e bisogna avere il coraggio della complessità, di non semplificare tutto, per cui nel nostro racconto giornalistico alla fine tutto si risolve in buoni e cattivi e nei sì e nei no tutto è bianco o nero, perché la realtà non è così, la realtà è complessa e il grande sforzo del giornalismo sociale che va fatto oggi è affrontare la complessità, affrontare la complessità e spiegare che cosa succede nelle scuole, che cosa succede oggi nelle scuole con i tagli, che cosa succede nell'educazione in una società che sta diventando multietnica, nelle classi che vedono bambini che vengono divisi in maniera, è stato fatto per troppo tempo e per troppi anni, in maniera assolutamente superficiale in bambini italiani e bambini stranieri, mettendo nella voce bambini stranieri, bambini che hanno il passaporto straniero ma che sono nati in Italia e sono cresciuti in Italia, abbiamo un sacco, la nostra società di oggi è una società complessa che ci impone di discutere e ci impone di avere la capacità di affrontare facce completamente differenti dei problemi e non possiamo pensare che queste cose qua vengano fatte raccontando tutto in maniera polarizzata, in maniera semplice di cui ci stanno appunto i buoni e di cui ci stanno i cattivi, io penso che il lavoro del giornalismo oggi sia quello di dare visibilità e sottolineare quanto sono fondamentali nelle nostre vite e temi sociali, io penso che il fastidio per la politica, l'antipolitica, il dibattito che c'è oggi e l'allontanamento della politica, sia a colpa innanzitutto dei politici certamente che non sono stati capaci di dare, di rispondere ai bisogni del Paese, cioè di mettersi in sintonia con quella che è l'agenda dei cittadini, cioè quando si dice i giovani, oggi i giovani non sono interessati alla politica, a me istintivamente mi viene da rispondere, ma perché forse la politica è interessata ai giovani, forse in questi anni la politica ha intercettato i bisogni e l'agenda mentale dei giovani italiani, no, e così non ha intercettato per troppo tempo l'agenda dei bisogni degli italiani, per un sacco di tempo è stata negata la crisi, per un sacco di tempo sono state nascoste o rimosse le povertà e i bisogni, oggi dobbiamo invece rimettere quello al centro, la politica lo deve fare, però in questo anche i giornali secondo me hanno compiuto un errore per troppo tempo, hanno messo la politica al centro, ma non la politica che ho sentito una volta Hillary Clinton in un dibattito dire, perché ho fatto politica? Perché politica per me è la capacità di fare la differenza nella vita delle persone, di riuscire a cambiare qualche cosa nella vita della gente, ecco, i giornali per troppo tempo non hanno raccontato questo, non hanno raccontato la politica come decisioni, come scelte, come modo per fare la differenza nella vita delle persone, ma li hanno raccontati nel senso del potere, delle lotte di potere, delle divisioni, delle spaccature, dei dibattiti sulle leggi, ma tutto nella logica e nei rapporti di potere. Ecco, io penso che quel tipo di politica e quel tipo di giornalismo oggi siano perdenti. Oggi viviamo in una società in cui invece ci deve essere un racconto largo, trasparente di quello che accade, far capire alle persone il perché delle cose che accadono e far crescere la consapevolezza nei cittadini di quanto loro stessi possano intervenire e fare la differenza. Io penso davvero che si debbano rimettere le persone al centro, che si debbano rimettere le buone politiche al centro, che si debbano raccontare quelle, che si debbano raccontare i problemi visti dal punto di vista dei cittadini e che si debba avere il coraggio della complessità e si debba avere la volontà per i giornali e per i giornalisti di far crescere la consapevolezza delle persone di quanto, di quante sfumature esistono nella società e di quanto la società possa avanzare e crescere se ha un buon giornalismo e se ha una buona politica. Grazie, buon lavoro e buon pomeriggio.